Come ogni primo fine settimana del mese nel cuore della città torna la Fiera Antiquari, edizione di ottobre, che edizione? Edizione molto buona perché nonostante le alletta meteo nostre e nei dintorni abbiamo 228 espositori che sono ben 18 in più dell'edizione di ottobre 2023. I espositori da tutta Italia negli angoli più suggestivi della città, in mostra opere d'arte, mobili, gioielli, accessori, libri, strumenti musicali e molto altro ancora. Come ogni primo weekend del mese nel centro di Arezzo è tornata la Fiera dell'Antiquariato baciata dal sole in questa edizione di ottobre. Tra i 22 spuntisti ce ne sono un paio nuovi, mi dicono fra l'altro che ce ne sono un paio nuovi e di ottima qualità, quindi a Fiera che continua a dimostrare salute, il meteo ci ha dato una mano e quindi dovrebbe promettere bene, tanta gente, molti turisti, quindi siamo soddisfatti. Ecco, vediamo infatti tante persone a passeggio e anche turisti ancora ad ottobre. Sì, sì, ancora meglio, continua questo flusso perché settembre è andato malissimo, ottobre sta andando bene, i musei stanno facendo numeri, quindi siamo moderatamente soddisfatti.